Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con qui Juventus, il nostro appuntamento settimanale a parlare della Juve. Questa sera sono qui a sostituire Marco Aeste e poi come sempre in studio Amos Ancellotti. Buonasera Amos. Buonasera a tutti voi e un saluto a Marco. Allora cominciamo subito allora a parlare della squadra allenata da mister Allegri, però prima di buttarci sulla sfida di domani sera, quella di Champions contro il Borussia, facciamo un passo indietro Amos e torniamo a parlare della gara contro l'Atalanta di venerdì vinta dai bianconeri 2 a 1, forse un po' con fatica? Molta fatica. Devo dire che è stata una partita sofferta come quella di Cesena. Però c'è stata la perla di Pirlo che ha risolto il problema, insomma ecco è stata un po' quello che ha dato un po' di ossigeno alla squadra perché era veramente un po' sulle gambe. Però tutto sommato devo dire che la Juventus sta facendo un periodo molto critico e cercherà di superarlo nel miglior dei modi. Certamente con l'Atalanta è stata una sofferenza non da poco, anche perché sapevamo con chi giocavamo e con quale intensità l'Atalanta avrebbe giocato questa partita perché è in una posizione di classifica dove l'Atalanta sicuramente tu sai che ha bisogno di punti. E la Juventus ha cercato però purtroppo non era una Juventus proprio pimpante ecco. Ma secondo te da cosa arriva questo momento di calo fisico? Perché alla fine si tratta di questo da parte della squadra di Allegri. Cioè da dove arriva questo calo di tensione? Oltre che calo fisico è un momento di concentrazione perché sono convinto che i giocatori stessi, l'allenatore, la società soprattutto, stanno affrontando questo periodo di cui si giocano tutto. Si giocano la permanenza nella Coppa dei Campioni e diciamo così la definitiva consacrazione a vincere il quarto scudetto consecutivo. Quindi essendo a più nove non è detto che sia vinto perché poi lunedì prossimo ci sarà il confronto diretto con la Roma. Esatto, infatti poi nel prossimo turno la Juve dovrà affrontare lo scontro diretto contro la Roma. Intanto deve pensare comunque prima alla sfida di domani sera contro il Borussia di Klopp che comunque arriva da tre vittorie consecutive. Piano piano sta risalendo anche in classifica quindi sicuramente non sarà una partita facile anche se sicuramente parte favorita la Juventus. Visto anche la sfida comunque che giocherà allo Stadium però andiamo a sentire le parole di Mister Allegri dopo la sfida e la vittoria contro l'Atalanta e si prepara subito alla grandissima gara di domani. Il pensiero della parte di Martini non è, non, credo che non ci sia stato assolutamente questo. Stasera per noi era importante vincere, è una partita difficile e complicata soprattutto perché dopo un buon inizio siamo andati in svantaggio. La squadra non ha perso l'uscidità, i ragazzi sono stati molto bravi, ribaltato la partita col gol di Lorente e un gran gol di Pirlo. Dopo il secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, poi l'ultimo quarto d'ora direi che non è stata più una partita di calcio, la palla era molto alta, non riuscivamo a gestirla. Comunque queste partite, queste vittorie, queste vittorie sporche sono importanti alla fine perché ti portano dei punti e perché poi è impensabile che la Juventus possa vincere e debba vincere tutte le partite 3-0 senza subire un tiro a un porta e senza mai soffrire. Invece già la partita di domenica a Cesena ci aveva riportato un pochino, non solo noi, ma tutti, tutto l'ambiente con i piedi per terra. Alla fine per vincere il campionato bisogna lottare, bisogna soffrire, bisogna passare attraverso queste vittorie difficili e complicate. Ma da quando siamo rientrati abbiamo lavorato molto. Queste ultime due settimane ancora di più perché poi dopo da questa settimana a un po' giochiamo una volta ogni tre giorni e bisognava mettere benzina nelle gambe. Speriamo di aver indovinato. Ma la partita di oggi ha dato tre punti, che è la cosa più importante. E ora da domani penseremo alla partita di Champions, martedì. Sarà una partita difficile, abbiamo un'andata e un ritorno, quindi ci vorrà bisogno di giocare con molto equilibrio. Soprattutto perché affrontiamo una squadra che ha grande esperienza internazionale, così come la Juventus. E io non sono affatto preoccupato e sono convinto che la squadra faccia una grande partita. Mister Allegri ha commentato la partita vinta contro l'Atalanta e si è avvicinato dunque alla sfida di domani sera contro il Borussia allenato da Klopp. Ha detto che ci possono stare comunque questi cali, ma comunque sicuramente ogni partita non è che si può vincere così, 3-0, giusto Amos? Bisogna soffrire ogni tanto? Molto, soprattutto anche perché se guardiamo il panorama calcistico a livello europeo ci sono delle squadre veramente eccezionali. La Juventus vuole entrare in questo gruppo di squadre che hanno lasciato il segno e naturalmente c'è questa concentrazione che io sono sicuro che sarà una partita molto intensa. Anche se la scorsa settimana dissi che il 50% sia per il Borussia che per la Juventus. In questo momento chi vedi più in forma fra il Borussia e la Juve? La Juve è vero che comunque tutto sommato sta andando bene, ha più 9 sulla Roma e saldamente in testa la classifica, mentre il Borussia comunque si sta riprendendo in queste ultime gare. Potrebbe essere un pericolo questo per la Juve? Più che un pericolo è una realtà che il Borussia a livello europeo è una squadra che sa affrontare le situazioni difficili. Quindi sono sicuramente due squadre che cercheranno di tutto per non perdere e soprattutto per avere ancora quella grande volontà di restare nelle grandi dell'Europa. Quindi io sono fiducioso nella Juventus, non perché sono juventino e sono un super tifoso, ma sono anche sportivamente parlando davanti a una realtà. Una Juventus così così è un Borussia che si sta riprendendo. E quindi spero che il mio sogno si realizzi di vedere questa Juventus finalmente nel limbo delle grandi. Certo, l'ha detto oltretutto anche Andrea Pirlo che punta comunque ovviamente oltre a vincere il quarto scudetto consecutivo anche a vincere magari il sogno della Champions League. Sappiamo tutti che è molto difficile, però comunque i giocatori e i tifosi questo lo stanno sognando già da tempo. Splendido gol di Andrea Pirlo. Cosa ne pensi di questo giocatore dopo una partita del genere? Ha fatto una partita veramente eccezionale contro l'Atalanta. Io guarda, Pirlo quando il Milan lo lasciò, non so se la Juve fece bene a prenderlo o no, però ero convinto che la Juve avrebbe preso un giocatore che aveva ancora qualcosa da dire e lo sta dimostrando in questi quattro anni. Ormai la Juventus è cinque anni che sta dominando il calcio italiano perché dobbiamo fare un passo indietro. Partiamo dalla Serie B, poi il primo anno di Serie A, campionato, secondo anno, terzo anno. Certo. Entreremo, devo dire che veramente come ha detto il Kellini, dice se vinciamo questo scudetto e entreremo nella storia del calcio italiano. Certo. La Juventus vuole entrare però anche nella storia europea. Allora noi andiamo a vedere cosa ci racconta nella prossima scheda. Simone Togna. La Juventus vuole diventare grande anche in Europa e Bianconerica martedì sera affronteranno in casa il Borussia Dortmund, Jurgen Klopp vogliono dimostrare al mondo e soprattutto a se stessi di poter essere grandi anche oltre i confini italici. Il mister della vecchia signora ha sottolineato che per farlo i suoi giocatori dovranno disputare due partite gagliarde e sarà di fondamentale importanza, secondo l'allenatore toscano, non subire gol in casa e quindi un eventuale pareggio per 0-0 non sarebbe un risultato negativo. In attacco, spazio alla coppia Morata-Tevez con Llorente pronto a subrentarare in caso di necessità. Dall'altra parte i tedeschi che in campionato sono nella parte destra della classifica e che si esaltano per non retrocedere, hanno ottenuto proprio nelle ultime settimane alcuni buoni risultati e il talento Marco Reus è tornato dall'infortunio, più in forma che mai. Non si deve poi dimenticare che in Europa quest'anno i gialloneri hanno perso solo una partita e si esaltano dopo aver sentito la musichetta della Champions League. Il tischio d'inizio è previsto ovviamente per le 20.45 e lo spagnolo Antonio Matteo Laoz sarà l'arbitro dell'attesissimo match. In quest'ultima scheda abbiamo visto un racconto come si prepara la Juventus ad affrontare la gara di domani sera contro il Borussia. Come detto prima la Juve punta anche a vincere questa competizione e secondo te se la può giocare con le grandi d'Europa, Amos? Se passa il turno si fa più convinto la forza della squadra e soprattutto i giocatori prenderebbero questa vittoria, questo passaggio del turno come un auspicio a dire che anche noi ci siamo tra le grandi quindi diamoci da fare, cerchiamo di restare nel mondo reale di questa Coppa Campioni che per me è sempre affascinante anche se per conto mio la vera Coppa dei Campioni era quella che la vincevano i campionati. Adesso è diventato questo business della Champions League, va bene lo stesso ma io mi ricordo sempre la Coppa Campioni quando le grandi squadre vincevano lo Scudetto nel loro campionato e solo loro potevano partecipare. Ti voglio chiedere una cosa molto brevemente, cosa ne sarà dopo l'addio di Pirlo alla Juventus perché ormai sappiamo l'età è lì che avanza? Ne hai fatto una domanda che io non sono proprio in grado di rispondere ma sono convinto che prima di mollare Pirlo ci penserà perché non è detto che sia sulle giambe, Pirlo ha anche lui quei momenti di flessione ma quando Pirlo gioca a modo suo ha ancora molto da dire. Io spero che il fisico lo mantenga ancora integro per poter ancora dire qualcosa nel mondo di questo calcio che lui sa giocare molto bene. Ultimissima domanda Amos, proprio risposta secca. Chi sarà il match winner di domani sera contro il Borussia? Io vorrei che Tevez realizzi il suo sogno di segnare qualche gol e restare dentro nel grande giro della Coppa Campioni. Quindi dai Tevez l'uomo partita della sfida di domani sera? Io me lo auguro perché lo merita per l'impegno che ha dato in questi momenti della Juventus anche in difficoltà. Certo, noi siamo in chiusura anche per questa sera, grazie ad Amos per essere stato con noi, grazie Amos. Grazie a voi tutti e buona serata. Grazie a tutti voi che ci seguite e vi do appuntamento la settimana prossima con qui Juventus. Grazie a tutti.